Come ha rimorcato Roberta. Una foto del cazzo su Instagram, fratello. Assoluto, Scott. Non è vero mai. Che vero è Roberta? Mi pare che qualcuno tra l'altro gliel'ha chiesto e la conferma, e lei gliel'ha già data. Lo so che abbrigo col cazzo piccolo, ma... L'ho fatta da un'angolazione in cui sembrava enorme. Quindi consigli questo metodo?